Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato stamane insieme alle alte cariche dello Stato alla cerimonia commemorativa dell'ottantesimo anniversario dell'Ecidio delle Fosse Ardiatine. Dopo la deposizione di una corona sulla lapide che ricorda i caduti del 24 marzo 1944, trucidati a Roma dalle truppe d'occupazione tedesche, sono intervenuti il Presidente e segretario Anfin, Francesco Albertelli e Marco Trasciani. Sono stati letti i nomi dei martiri, poi la commemorazione è proseguita con la preghiera cattolica recitata da Monsignor Sergio Sidi, cappellano militare, e con la preghiera ebraica, ufficiata da Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Mattarella ha quindi reso omaggio alle vittime dell'Ecidio. Nel marzo 1944 le forze naziste occupavano la capitale, mentre i gruppi partigiani opponevano la loro resistenza. Il 23 marzo alcuni membri dei GAP, i gruppi d'azione patriotica, uccisero in un attentato a Via Rasella 33 soldati nazisti e ne ferirono 38. La rappresaglia tedesca non tardò ad arrivare. Fu deciso che per ogni soldato tedesco ucciso sarebbero stati eliminati 10 italiani. Furono scelte 335 vittime a caso, tra cui diversi prigionieri politici del carcere di Via Tasso, molti ebrei e alcuni civili. Eric Priebke, che comandava l'unità responsabile del massacro delle Ardiatine, fu condannato per crimini di guerra nel 1996.